Politano salva tutti, diciamoci la verità. Immagino i commenti, cominciando da me in questo momento, a tutti quelli che avremmo sentito stasera, domani e nei giorni successivi, se il Napoli avesse pareggiato la terza partita consecutiva con una frenata clamorosa e con un gioco francamente stagnante e piuttosto ridondante. Il Napoli, visto oggi, è una squadra con poche motivazioni, come è normale che sia, non avendo nulla da chiedere a questo campionato, che sta aspettando che arrivi il grande evento, che è ancora di là da venire e quindi non c'è neanche quella tensione dell'evento vicino. È un Napoli a basso ritmo, che fa avvicendamento più che turnover continuo e che cerca di tenere la condizione evitando infortuni. Quello oggi con l'Udinese, se la partita fosse finita 1-1, forse è l'Udinese la squadra che si sarebbe potuta lamentare di più. Perché nel secondo tempo il Napoli ha avuto una clamorosa occasione da gol, quella di Zierischi, che la palla sbattuta sulla traversa è entrata in porta. In altri tempi quello sarebbe stato gol, ma per le regole del gol non gol della goal line technology, la GLT, come viene chiamata in gergo, se la palla non supera, come dice il regolamento, la linea completamente non è gol. Per proprio un pelo la palla è stata, ha toccato la linea della porta e quindi da regolamento non è stato assegnato il gol. Però poi l'Udinese ha avuto due palle, gol strepitose. Una con la Sagna, che ha trovato in Ospina un ostacolo insormontabile, ha fatto una parata eccezionale il portiere colombiano. E l'altra con un Coulibaly fortunatissimo, perché ha ripetuto lo sventurato intervento di Torino con la Juventus, distinco, scoordinato e tutto, per salvare un altro gol di quel Rodrigo De Paul, da me è tanto decantato nell'anteprima e che si è confermato un giocatore di livello superiore. Noi decantiamo tanto Fabian Ruiz e Zierischi, io continuo a dire che De Paul, insieme a Papu Gomez, insieme a Dybala, miglior giocatore del campionato, insieme a Lukaku e insieme a Lorenzo Insigne, quello dopo Covid ovviamente, non quello di prima, è il giocatore più qualificante di questo campionato. Eppure lì è stato un colpo di fortuna per il Napoli, perché la palla è sbattuta sulla travesta e è tornata tra le mani di Ospina. Ai punti è stato molto più pungente l'Udinese e ancora una volta il secondo tempo del Napoli è stato poco convincente. Il Napolitano all'ultimo minuto trova dal cilindro il primo grande acuto della sua carriera napoletana e salva tutti, salva Gattuso, salva il Napoli dalle critiche e permette un percorso di avvicinamento tranquillo a Barcellona. Il Napoli di Riff di Raffa e sta agganciato al Milan, che è in condizioni strepitose. Però alcune critiche vanno mosse. Questa manovra stucchevole, io la do a te, tu la dai a me, Manolast, Koulibaly, Koulibaly, Manolast, vado avanti, no, te la ritorno indietro, e poi me ne vado da Ospina e poi riparto. E sto sempre a metà campo e non affondo mai. E per minuti, minuti, minuti questo incedere. Avremo un possesso palla strepitoso, ma a cosa serve? Io mi chiedo e mi domando, Rino Gattuso, a cosa serve tutto questo? Dove sta il tentativo della profondità? Dove sta contro una squadra schierata molto stretta, con tre centrali stretti, a cercare sempre quell'1-2 centrale e mai l'ampiezza, mai l'ampiezza? Il Napoli in ampiezza, pur giocando due contro uno sulla fascia, perché loro giocano con i quinti, ebbene, il Napoli non ci è andato mai. Ed è mai possibile che oggi Lozano non ha trovato un minuto di spazio. neanche con l'Udinese, un calciatore che ha costato 50 milioni, che ha dato qualche segnale di vita, lo tiene di nuovo in panchina. Mi domando e dico queste domande, in un contesto positivo, perché se si parla di vittoria stasera presa per i capelli, però ci sono delle domande che uno deve fare e che richiedono risposte. Lozano neanche un minuto. Il Napoli che fa questa manovra, che ritorna indietro, ritorna indietro, a cosa serve? Poniamoci alcune domande. Il Napoli che prende gol ancora una volta, continua questa cosa che il Napoli non riesce a tenere la porta in battuta. Quando sappiamo che a Barcellona servirà una prova difensiva di livello superiore contro una squadra che è una mitragliatrice quando vuole. Ecco, queste sono domande che rimangono in evase, in una serata negativa, se non nel punteggio e nel risultato vincente, perché mi interessa le prestazioni. Pareggi con Milan, ma domini, bella partita, buon Napoli. Ma tra Bologna e Udinese si è visto un Napoli in totale regressione. stasera perfino peggio, secondo me, per certi aspetti, è però giustificato dal fatto che quando mancano le motivazioni evidentemente i giudizi vanno un attimo fatti con un grano salis, con un minimo di beneficio dell'inventario, perché è evidente che nel calcio la motivazione è davvero tutto. Grazie a tutti.